tercao ale fritto mangia cali vita e black juice e dave 17 numero sfortunato ma il costone grazie costa 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 crociere non affondare mai più di prego sì sì allora vediamo un po ecco qua ti ricordi la luna nera a proposito 17 la luna nera papà papà para papa ti ricordi no no si è alzato il tuo doveva alzare l'altro ho fatto io ho fatto io lei leggeva le carte e poi si metteva uno strapone e te lo metteva nel culo non è vero non è vero non è bene che gli anni sono passati ma mi sa che non la metteva in culo a nessuno guarda hai capito mario ma che cazzo c'entra con il ragazzo dei soldi è perché la sfortuna insegue anche tutti ti sembrerà assurdo ma mi sono appena svegliato ovviamente ho guadagnato dei soldi no sì lui è più forte fra sei svegliato ha guadagnato dei soldi come ha fatto mario vengo a fare un video dove ti vado ad insegnare a spiegare su cosa vuol dire fare soldi insegnare a insegnare a insegnare a insegnare sei calmo ma scusa ti sta arrivando un segreto per fare soldi dai siamo tutti più ricchi abbastanza semplice anche perché io sicuramente si tratta di lavori che ci vuole un po per partire oddio ti ricordi la unziker che faccia questi balletti ma guardiamoci il video di luca valori bro visce l'unziker si me la ricordo cosa vuoi vedere per inciso alex lariette era presente le scene che ci aveva detto non è il porno che ha porno no 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 alex lariette era era coso era il film con alberto sono quello la che ha detto ho capito basta che basta che la smetti è un grande film ok ok mettiamo un best di alex lariette al volo e la c'è tutto il video completo il film the best of arts alla morte di robinson momento epico è qui che la vita di alex cambia completamente ma non era un video di luca valori aspetta è la veramente cambia completamente ma perché assiste alla morte del suo migliore amico guarda la dinamica c'è una una culla nella notte abbina l'ha fatto un provocatore questo film voleva far arrabbiare l'ha fatto anche un grande regista c'è chi zuttu uccu che sardo no 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 cerchiamo cerchiamo no no esiste esiste è la tua parola preferita possono diventare passivi e se stai guardando questo video probabilmente sei qui perché vuoi imparare a come generare un reddito non proprio luca sono qui col mio amico mario si stiamo guardando perché mi dà fastidio cioè per questo no perché mario vuole diventare un imprenditore voglio io essere libero perché mario è furbo no 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 è un concetto proprio il contrario è un po furbetto è l'incontrario dell'imprenditoria voglio essere libero quindi non voglio essere un imprenditore questo è il sì sempre liberi dai continuiamo da attività proprio come questa e se sei quella persona lì ti consiglio di restare a guardare questo video all'ultimo metodo ti darò un bonus anche partendo totalmente da zero ma che c'entra crash bandicoot bro dov'è quindi quindi dai zitto bonus ai cazzo posso capire che fai la scena ma non appoggiarmelo per davvero che palle veramente tu non riesci a dare affetto se non col pisello col buco del culo non riesci a dire ti voglio bene ma riesci a piccarmi il pisello quando vuoi minchia il senso della cazzo di misura rimetti il video non se non c'entrava crash bandicoot questo è il disturbo dell'attenzione che c'hai te metti la cosa dei valori dai valori per tu fischi siamo al te no non c'entra nulla non c'era catcalling fai 30 30 secondi siamo ancora al video 30 secondi buon anno buon anno Grazie a tutti. Tu pensi di fare una live intera in questa maniera? Cioè, riusciamo a chiudere una frase? Non è successo niente dall'inizio. E attualmente, specialmente per partire da zero, il miglior modo per guadagnare dei soldi per avviare una fonte di reddito, quindi un sistema che ti porta denaro all'interno delle tue tasche, è creare dei canali Cashco Channel senza... Cosa? Cashco Channel. Denaro all'interno delle tue tasche è creare dei canali Cashco Channel senza neanche mostrare. Quindi dà per scontato che io sappia cosa vuol dire Cashco Channel? Certo, se fai trading lo saprai, no? Coglione del cazzo. Mi dici che è un metodo pigro e poi mi dici Cashco Channel. Cosa vuol dire Cashco Channel? Ciao, Alicia! Vai a lavorare. Ciao, Alicia. 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 che cazzo vuol dire Cesco Channel? Vuol dire che te hai... come dire, hai messo da parte dei soldi, ma ti rientrano con un riciclo, tipo l'aria condizionata interna. Cosa vuol dire? Non ho capito. L'aria condizionata interna... Hai visto quando switchi... Aspetta, faccio vedere. Però se non c'entra col Cesco Channel diventa un po' strano, eh? Quale periodo migliore per parlare dell'aria condizionata? Tu sei in abitacolo, fuori ci sono 30, 32, 33 gradi, e in abitacolo bello, fresco, eh? 18, 19, 20... Piglia bene. Stai freschissimo. Freschissimo. Vediamo insieme come funziona. Che maglietta, tra l'altro. Guarda, è una cosa molto semplice. Vai. Che fastidio che mi dà questo ottimismo. Allora, abbiamo un compressore che grazie a una cinghia... Come Rip. È morto. Com'è morto? Com'è morto? È il tempo... Sei suicidato. Come sei suicidato? No! Con tutto questo ottimismo sei suicidato? Ma perché non chiudo la mia merda di bocca? Vabbè, ma che cazzo ne sapevi, Mario? Eh, sì, sì. Che cazzo ne sapevo? Sì, però sono qua, loro sono pronti. La mitica mazza... Ma come con questo ottimismo qui? Che peccato. Ma faccio l'anima sua. Basta sottolineare la roba dell'ottimismo. No, ma non era perché. No, non possiamo più risentirci l'aria condizionata perché non c'è più il ragazzo. Eh, mi dispiace, sì. Ok. Dovevo fare ironia. Non si può fare ironia, secondo me. Certo, allora andiamo di Luca Valori, dai. Ah, sì, sì, a proposito... A proposito di... Perché ci frequentiamo da 24 ore, sì, me lo dici soltanto davanti alla telecamera? A proposito di ritorni, volevo dire, proprio ritorni, è la parola che mi stava sfuggendo. Eh, se mette un video di Pantella smanifato, eh. No, quasi, quasi. Perché sta tornando Michael Righini. Ha annunciato il suo ritorno oggi. L'aveva lasciato pure, immagino. Sì, va bene. Vi devo dire una cosa. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo... Or King Town. Se consacri te stesso a un ideale... ...allora diventerai tutta un'altra cosa. Una bestia, signor Righini. Una bestia. Noi abbiamo lottato insieme. Grazie, nonna. Grazie, quella lazzurra. Grazie, Ludini. Poi tu sei scomparso. E adesso questo male emerge. Ora la bestia deve tornare a combattere. E se non esistesse più? Deve esistere. Deve esistere. Eccolo, ecco. È tornato, Mario. È tornato. La bestia. La bestia. No, no, non sembra... Bastardo. Non sembra invecchiato di un giorno, Michael. Ha tra l'altro uscito anche il trailer del nuovo Miyazaki. Chiamato. Ovviamente a lui non interessa nulla perché poveraccio l'arte, però... A lui cosa? A chi? A te, a te. Però... Ma perché adesso mi hai relegato alla terza persona anonima? A lui. Sono davanti a te. Scusa. Mi interessa, mi interessa. Mi sono visto la città incantata l'altro giorno. Ma vabbè, non l'ho visto. Non so chi l'ha visto a... A Luca. Comunque è incredibile. Incredibile film. Dai va la merda là sotto, odio cantante. Ma che bella. Che meraviglia Voi non avete idea ragazzi Veramente incredibile Chissà questo erone che cos'è Ma baffanculo Mario Ti sto parlando di quei canali Che hanno milioni di iscritti E non hai mai visto nessuno Né parlare né mostrarsi in viso E nessuno mai ha capito E nessuno sa di chi sono Quei canali che generano migliaia E migliaia di euro Ovviamente come primo step bisogna scegliere una nicchia Può essere una nicchia business Ma secondo te questo cosa c'entra Con le nicchia business Ehm niente È il mistero Storie horror Ah no no storie horror Eccoti quando studiavi Non avevo questi ricci Comunque l'isola di prima è Essere così ricchi da trovare Il proprio paradiso terrestre No perché mi piacciono le persone E alzo la voce Perché è per tutti questa cosa No il futuro non è isolarsi È il pezzo di montagna Questa cosa Detto normale Agi tecnologia E puoi utilizzare una voce narrante Ovviamente poi sovrapponendo dei video stock Quindi dei video che si possono reperire online In sia video Barra anche foto Una volta Oh che c'è Che fai Allora l'indirizzo di Mario Per mandare la lettera Non mandare nessuna lettera Comunque ho fatto un dito medio Chiedo scusa ok Prendo le distanze Fracchi Quattromila ore di visualizzazione E mille Quattromila Ha detto visualizzazione Una volta raggiunti i requisiti di youtube All'incirca quattromila ore di visualizzazione E mille iscritti Puoi finalmente abilitare la monetizzazione Con questo cosa voglio dire Hai mai visto Andiamo avanti Visto tutte le volte che tu su youtube Stai Ah Brasile Stai vedendo un video E ti appare un annuncio Prima che il video parta Oppure anche durante l'arco Della visualizzazione di questo video Bene Il proprietario di quel canale Il proprietario che ha fatto quel video E l'ha pubblicato In quel momento Mentre tu stai guardando Anche se non hai speso un euro Non hai dato i soldi a nessuno Ma il proprietario del canale Sta guadagnando dei soldi E questo perché avviene Perché quella pubblicità che stai vedendo Quanto cazzo è sa Mario io veramente Ma perché Perché noi abbiamo sbagliato tutto No Mario Mi hai guardato negli occhi Mi hai visto depresso E hai detto quanto cazzo è saggio Hai aspettato un attimo Ho visto un primo commento Che diceva Arlong Ma tu che cazzo hai fatto fino ad ora Da dove cazzo vieni E chi cazzo frequenti Che è? Eh? Perché vai su Twitch? Vai su Twitch C'è Marco anche C'è Marco Sì Guarda c'è i Tommy I Tommy Sì Leggendaria i Tommy C'è anche Kazumi Sen Sì figurati Ci diciamo